Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi iniziamo questa settimana importante, visto che domani inizia l'ECMA 2023 parlando di una moto appena, tra virgolette, presentata che in diversi mi avete chiesto di portare sul canale la nuova Vogue Valico DS900X una nuova adventure della casa cinese Vogue che vi ricordo essere il marchio premium della Loncin, no? La moto effettivamente è molto interessante e se uscirà ad un prezzo conveniente potrebbe rompere scatole a quel segmento delle moto che montano il 21 parliamo delle enduro stradali, tra virgolette, maxi ovvero quel segmento composto dalla Northern 901, 890 Adventure, Africa Twin versione normale 2024 la nuova F900GS e se vogliamo anche rompere le scatole un po' alla Transarp della Honda nuova alla Tuareg, forse perché no, e anche alla 790 Adventure 2024 e 2023 quindi ecco, diciamo che Vogue sta salendo comunque, diciamo, di qualità, di livello e sta andando a confrontarsi in un segmento che è combattutissimo cioè quello delle enduro stradali con il 21 che in Italia e anche in Europa comunque sono moto che hanno un mercato veramente pazzesco ora, la moto è molto interessante sotto diversi punti di vista a partire comunque dal motore che ha quanto ho capito perché non sono informazioni ben definite queste perché ovviamente non è che proprio fanno capire bene il motore dove provenga comunque il motore sembrerebbe essere quello che Vogue fornisce alla BMW sulla serie F900GS nuova, F800GS 2024, nuova 2024 e anche la F900R e F900XR una buona ciclistica e soprattutto un'ottima componente elettronica cioè parliamo di schermo TFT, Bluetooth, Cruise Control da qualche parte ho letto anche il radar anticollisione anteriore ma non sono sicuro di questa informazione però sensore, misurazioni pneumatici, traction control, ready mode insomma abituati a pensare alla Vogue un po' come un marchio cinese magari un po' di secondo livello un po' alla seconda scelta magari per chi non vuole spendere molto con questa moto effettivamente Vogue fa un salto in avanti veramente notevole anche dal punto di vista comunque dell'estetica la moto come design ricorda molto moto occidentali non è che parliamo di moto che dici cavolo sembra una cinese la moto è anche fatta bene insomma nel complesso è una bella moto vediamo com'è fatta perché potrebbe avere successo vi ricordo che Vogue in gamma ha la Valico 525 DSX 2023 che sta vendendo un macello un paio di mesi addirittura ha venduto in Italia di più rispetto alla TRK502 quindi comunque Vogue è un marchio che effettivamente sta salendo insomma proprio sta scalando diciamo l'opinione pubblica italiana tra virgolette cioè è un marchio che sta venendo sempre più apprezzato un po' come ha fatto Moto Morini tempo fa o come anche la Benelli comunque a parte tutti questi discorsi qui di fianco vi lascio qualche immagine questa è la nuova Valico DS900X 2024 questa moto l'hanno tra virgolette presentata la vedremo all'ECMA tra poche ore ma sul sito ufficiale Voge Italia ancora non è presente quindi tutti i dati esatti non li conosciamo così come non conosciamo nemmeno il prezzo che sarà poi anche la componente più importante però conoscendo Voge credo facilmente che comunque la moto andrà a costare di meno rispetto ai suoi competitor tendenzialmente potrei immaginarmi magari una 2000 euro circa in meno rispetto a una KTM o una Honda o Squarna e via dicendo dunque cosa vediamo? vediamo questa Adventure che come design insomma ricorda molto secondo me è una moto della BMW potrebbe sembrare se non sapessimo che è una Voge secondo me se nascondissimo il marchio il logo potremmo scambiarla facendo un gioco come se fosse una BMW oppure un design che ricorda un po' con l'inglese della Triumph diciamo che è una moto molto carina per come è fatta anche se probabilmente le manca un po' l'identità cioè è fatta bene come estetica non si può criticare non è una moto che dici linee strane però non ha neanche una sua identità da questo punto di vista forse come estetica beh fresco di più la 525 DSX è più particolare come moto pur essendo comunque un 500 questa è bella ma diciamo non ha quell'identità come particolare che dici questa è questa moto è la DS900X sembra un po' un miscuglio diciamo di design presi un po' qua e là però nel complesso ecco non si può dire che sia brutta questo cioè è una moto comunque abbastanza affascinante ecco le manca un pochettino un filino di identità cosa che invece è al contrario alla Valico 525 DSX per quanto riguarda le caratteristiche prima cosa questa moto come è accoppiata monta il 21-17 quindi va a sfidare con le moto che montano il 21 parliamo dicevo della Norden dell'Africa Twin Standard della 890 Adventure oppure anche Tuareg oppure anche la Transalp 90-90 all'anteriore e al posteriore una 150-70 con le Michelin Anarchy 3 per quanto riguarda invece il motore questo motore come cilindrata è un 895 bicilindrico ora non è chiaro da dove provenga ma dovrebbe dico dovrebbe essere il motore che Vodge la launching fornisce anche alla BMW sulla F900GS 2024 F900GS Adventure 2024 F800GS 2024 F900XR e F900R quindi un motore che fondamentalmente già si è visto e infatti per chi non lo sapesse insomma i motori delle moto che abbiamo citato vengono forniti viene fatto il motore dalla Vodge cioè Vodge collabora con la BMW e fornisce i motori per quelle moto io vi posso dire magari qualcuno potrà sembrare anche strano io ho provato però se vi ricordate l'anno scorso se vi ricordate bene la F750GS e la F850GS due moto che montano il motore bicilindrico cilindrata 8.53 che è quello dove poi deriva il motore nuovo 8.95 della serie F900GS quindi ho provato già due moto della BMW Adventure col motore fatto dalla Vodge e l'oncine e vi dico le moto andavano benissimo c'è il motore fluido lineare una bella spinta anche la moto comunque fatta bene poche vibrazioni mai un impuntamento cose strane e quindi sono i motori secondo me che vanno bene ecco quindi non preoccupatevi discorso comunque provenienza motori perché comunque c'è questa collaborazione comunque tra la BMW e il marchio l'oncino marchio Vodge per quanto riguarda il resto abbiamo un parabrezza che comunque è regolabile in altezza abbiamo una vasta serie di optional e per quanto riguarda invece il resto insomma abbiamo una moto con uno stile fortemente occidentale forse se vogliamo unico difetto un pochettino il peso rispetto a una F900GS la moto pesa un po' di più e anche rispetto a una 890 Adventure però se poi la moto alla fine va a costare 3000 euro in meno rispetto a BMW KTM ci potrebbe ancora stare come discorso allora discorso caratteristiche tecniche motore motore dicevo prima bicilindrico cilindrata 895 potenza a 94 cavalli a 8.250 giri mentre la coppia 95 Nm a 6.250 giri la moto pesa secco 215 kg altezza sella 825 mm serbatoio 17 litri quindi da quanto ho capito non dovrebbe essere il 20 litri visto sulla versione prototipo tempo fa potenza e coppie ecco 94 cavalli circa e 95 Nm di coppia è meno potenza rispetto per esempio al motore dell'F900GS 2024 ma al contrario comunque è più coppia rispetto al motore proprio della nuova F900GS e variante Adventure 2 Nm di coppia affrontati comunque di una potenza di circa 12 cavalli in meno comunque il motore dovrebbe essere sempre quello come potenza siamo lì proprio con una F900GS con una Africa Twin visto che l'Africa Twin è come potenza massima di cavalli ne ha 102 idem la KTM 890 Adventure che di potenza massima ne ha 105 e 100 di ultimatoria di coppia siamo lì con la Norden motore KTM siamo lì se vogliamo un po' anche con la Transalp che di cavalli ne ha 92 siamo lì con una V-Storm 800DE che ne ha 84 di cavalli e con una Tuareg che ne ha 81 comunque si ha è vero queste tre moto Aprilia Honda e Suzuki hanno un po' meno potenza ma più o meno siamo lì come motore rispetto al motore della Valico di S900X quindi comunque questa rappresenta attualmente la moto più potente ma è fatta comunque dalla Volge invece ciclistica cosa conosciamo? abbiamo il telaio che in acciaio forcellone che in alluminio sospensioni con la forcella stirovesciati sospensioni che sono regolabili un impatto frenante che dovrebbe essere firmato Brembo non conosciamo il diametro dei dischi ma penso che sia un 300 un 310 all'anteriore probabilmente gommata con i cerchi 21-17 90-90 all'anteriore e a posteriore 150-70 con le mission Anakin 3 ABS che è presente a doppio canale e se ho capito bene si può anche di inserire come strumentazione moderna TFT con bluetooth quindi si può connettere smartphone e moto poi abbiamo cruise control traction control abbiamo 4 ready mode e poi c'è il cambio elettronico up e down anche più sensore misurazioni pneumatici più come optional si può avere anche serra riscaldata e manopole riscaldate insomma è un bel pacchetto fatto bene moderno non si conosce il prezzo però di questa moto attualmente prezzo sarà la componente chiave voce comunque le moto in Italia le fa pagare meno rispetto alle concorrenti se pensiamo prendiamo come riferimento al segmento KTM o Squarna e Honda con l'Africa Twin o BMW siamo sulle 14.6 15.000 euro Africa Twin versione base sui 15.000 euro KTM l'autoramata Adventure sui 14.700 euro F900 GS 1024 nuova 14.600 a partire da Norden sempre 15.000 euro insomma se prendiamo come riferimento questo segmento potrebbe essere che magari la voce potrebbe costare magari un 12-13.000 euro e non sarebbe niente male per come è fatta poi un motore comunque condiviso dalle BMW no? quindi è una cosa comunque di cui vantarsi questa insomma la moto sembra interessante aspettiamo di vedere dal vivo all'Ecma io sarò in fiera a Milano sabato mattina con Erika e vi porterò un video anche da questa moto visto che in tanti comunque siete rimasti colpiti per il momento dico brava Voj cioè la moto sembra fatta bene è piaciuta bene la Voj grazie anche al 525 DSX la Valico quella blu con i cerchi dorati veramente molto bella e quindi è un bel prodotto questo insomma se le cinesi crescono in questo modo benvenga anche perché comunque poi costringono probabilmente la concorrenza giapponese o austriaca o tedesca ad abbassare un po' i prezzi vedremo ragazzi poi la moto magari la proverò anche prossimo anno se riesco se la metteranno in demo da questo video è tutto e nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate della moto se vi piace come è fatta se non vi piace discorso potenza se vi potrebbe interessare ad un prezzo stimiamo di 12.000 euro però il prezzo è sconosciuto potrebbe essere 10.000 sarebbe ancora meglio come potrebbe essere 14.000 quello che non ho capito è se c'è il radar anticollisione o se c'è quanto costa sarebbe interessante sapere cosa sapete se ci fosse il radar anticollisione quanto costerebbe il pacchetto active cruise control se fosse soltanto l'anteriore per fare un confronto con il radar anticollisione magari che offre Ducati oppure BMW visto che Ducati il pacchetto radar lo fa pagare tipo 1000 euro e passa sulla multistrada V4 poi sicuramente non sarà complesso il radar della voce come quello della Ducati visto che comunque Ducati al tempo aveva detto che per fare con il radar completo anteriore e posteriore ha fatto studi con un'università italiana quindi studi dietro di un certo tipo però radar anticollisione su una voce insomma su una moto di un marchio cinese un brand cinese è qualcosa di nuovo quindi è tutto molto interessante resta da vedere appunto il discorso prezzo dicevo da questo video è tutto saluto come sempre Erika mettete un like se vi è piaciuto iscrivetevi a nostra YouTube con lo Instagram e a me la micro ufficiale noi ci vediamo come sempre nel prossimo video scusatemi per la mia voce ma sono un po' raffreddato per farvi il video di domenica sulla top classifica top 20 moto più venute in Italia ho preso un botto di freddo quindi mi sono raffreddato quindi ho perso un po' la voce e basta da questo video è tutto noi ci vediamo nel prossimo ciao ragazzi ciao